Alè, sai chi è un pastore? Ma io non ho visto le cartone di Heidi. Dimenticato. Ti sei dimenticato? Le pecore a che cosa servono per te? Per fare il pudding. Devo andare, perché i bambini vogliono vedere, le piccole, il pastore, devo andare, non mi fermerà nessuno. Vi è un vecchio pastore di nuvole, un minatore di desiderio, un marinaio di lungo corso, che ha navigato sui sette dolori. Quando incontro i bambini, non so, così gli dirò. Prima gli chiedo se volessi i miei amici, poi gli dirò, mi chiamo Renato Zucchelli, abito a Milano e sono un pastore. Ecco, così gli dirò.